È stata un'esperienza molto positiva, soprattutto questa collaborazione con il Festival del Cabaret di Martina Franca, con l'Associazione Sirio e la Famiglia Tagliente. Un connubio perfetto per mettere in quest'estate tre serate di divertimento, di entusiasmo all'insegna della spenseratezza, ma ancora di più di valorizzazione di questo luogo che è Lungovalle Nicolandria di Massafra, che abbiamo riqualificato e grazie a queste serate sta prendendo vita con tanta partecipazione di tante persone e tutti gli artisti che stanno venendo a trovarci di fama nazionale stanno apprezzando molto il nostro scenario, le nostre gravine e il nostro patrimonio storico architettonico. Insomma, è un'esperienza da continuare e speriamo che in futuro possa crescere sempre di più. Sono sincero, non me l'aspettavo, Massafra è veramente bella. Poi a Puglia mi piace perché ha tutte le caratteristiche del tipico paese del sud, dove io poi ci sguazzo ovviamente perché è casa mia. Ancora vedere la gente, la luce, il passaggio, le belle persone, Massafra rispecchia proprio per me l'ideale per fare il cabaret. Penso che è sempre stato importante far sorridere, quanto è importante riuscirle a trattenere, perché noi praticamente siamo tutti quanti, sono tutti quanti bravi col telefonino in mano. Il problema è stare sul palco. La mia generazione è cresciuta pensando al palco e Tnim ha voglia di stare sempre sul palco, si è innamorati del palco. Ed è importante far sorridere, come è anche importante far riflettere per chi vuole far riflettere, ed è importante anche far piangere per chi vuole far piangere, ma nel senso positivo, emozionare, diciamo così, emozioniamo. Sono una cornice stupenda, sono rimasto contento, sono rimasto assai contento e sono fatto Massafra. Perché tu dici ma che ti aspettavo? No, non mi aspettavo una situazione bellissima, un panorama stupendo. Poi c'è tutto, mare, a me non sai come piace assai la Puglia, i basoli bianchi. Poi solo arrivando e passando per i trulli ti dà un tocco di favola. Un pugliese a Massafra, e mi vergogno di questo, perché da pugliese, da tranese, è la prima volta che vengo a Massafra, ed è, ho scoperto un paese stupendo, e chiedo scusa, chiedo scusa a tutti i Massafresi, Massafresi, veramente vi chiamate così? Non sapevo sta cosa qua, Massafresi, vi saluto con tutto me stesso. Ho sempre pensato che un comico, prima di essere un artista, è colui che serve al mondo. Soprattutto, guarda, negli ultimi quattro anni, per tutto quello che abbiamo vissuto, chi meglio di noi non può far distrarre un pochino la gente, non far pensare, far dimenticare tante cose. Quindi, più che un mestiere, è una specie di missione, quindi, evviva la comicità e evviva i comici. Quelli bravi. Io no. Quindi, ecco. Grazie.